Cosa faccio il 23? Il 23 io sarò a Colombia dove si svolgeranno le giornate europee del patrimonio e cercheremo di dare come fa il Fondo Ambiente Italiano il nostro contributo. In che modo? Spiegando cosa facciamo concretamente sul territorio attraverso due bellissime proprietà che abbiamo in Liguria, San Fruttoso, l'abbazia di San Fruttoso di Capodimonte e Punta Mesco, Case Lovara, nella zona di Levanto. Sono due proprietà molto diverse tra di loro ma che rendono veramente l'idea di quello che può essere fare cultura in maniera intelligente e concreta.